occhio occhio hai giusto detto mi metto dietro nel gruppo perché la prima frenata ralf lo diciamo sempre noi buongiorno ragazzi e benvenuti finalmente in una giornata di bike park qui sulle dolomiti secondo giorno di camp insieme ai ragazzi di occhi e dobbiamo fare tutti gli auguri a walter tanti auguri walter oggi campi agli anni commentate qui sotto quanti anni volete augurare a walter esatto voletemi bene anche ieri abbiamo fatto un bel giro qui sui passi dolomitici con la bici la corsa oggi invece andiamo in bike park giornata super mega bel gruppone si va il buon pialo è già partito con l'ansiette stamattina cos'hai buon pialo stamattina genitori genitori da gestire è così è così ma dove ti porto luigi va bene quella di ieri dai mi accontento di cara di ieri che si va ragazzoni io questa qua non l'ho mai fatta occhio luigi coi freni questi qua sono i pezzi più bastardi tutti le strade così bianche perché qua è dove prendi velocità in un secondo e poi ti ammazzi perché non tiene un cazzo freno davanti qui ecco magari facciamo fioccio luigi qua 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 va che posticino andiamo a prendere un altro impianto va che relax è altro che bici a corsa luigi che bella vita fai oggi ilario bella vita seguitela per altri consigli e tutorial madonna manca in tinta con il pantaloncino in aria e anche oggi giornata paura secondo me potrebbe essere molto carina dove ci porti maestro diego madonna ma oggi ma che che qualità ma che qualità abbiamo ma proprio va che bellino qua fondo sempre sempre bello slipperone ghiaia ma dopo troveremo anche la terra dove è andato il buon piano buon piano dove sei andato insieme l'aria del posto ma che robetta o piano che ti porto non dici niente attenzione drifting la fiera del dritto oggi sapete perché perché vi siete dimenticati la regola più importante la prima e la seconda teghe di andar pian perché la va dritta di qua di qua di qua oh ma senti che ruota libera che c'ha diego oh ma c'è anche il mini golf eh qua potrei essere competitivo eh se vuoi pausa pranzo sfida certo che ti sfido madonna ah diego ci fa pure tagliare i pezzi di trail oh questo non ricordavo carino con le curvette oggi abbiamo una una guida d'eccezione il nostro buon diego grazie diego anche la giornata è lunga piano col molla tutto niente prendiamo già i fossi occhio che c'è una passerellina dopo eh l'aria è gasatissima come sempre poi col suo setup nuovo manubrio attacco ciao piano 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 vai tranquilla no no teniamo tutto non andare troppo forte sul sentiero che non conosci cerca di buttare di più fuori verso l'esterno il culo qua e attraversamento c'è passa a destra magari una cosa l'abbiamo capita a te non piacciono i cancelletti si ma stai già finendo il mazzo eh vai tranquilla no non è che stava entrando è praticamente entrata nel cancello ma no attenzione walter stizzito no è sporca merda lo stesso ci ha scollato le patatine fritte si si no 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 io l'ho data pulita la maschera io stamattina e non farlo mai più mai più io chiamolo chiamolo con la cinghia lunga benvenuti nel nuovo diego video visto che ormai sono local qua su tutto ok oggi vi porto a vedere il bike bits qui e vanno a fare la linea verde perché abbiamo degli anni che non è molto ma sei diventato mergana parlo un po tutto io ok e sto vendendo l'accento veneto di recente con roba allora c'è una cosa ok una certa giriamo giù se che era una curva stretta poi giri giù ancora è uno scavallo curva destra cieca se sbagli vai giù dritto no ma va piano eh ralph io ho una paura di far una chiusa alle legalite jet privé carino questo non aveva mai fatto l'anno scorso o almeno non me lo ricordo queste curve senza appoggio attenzione north shore piano che fa le guippatine sono fatte apposte per morire male madonna mamma mia non ti voglio vedere rischiamo di morire così da fermi e la prova a buttare fuori un po' butta fuori un po' quelle chiappe all'esterno quando fai le curve che tendi sempre a buttarti verso l'interno ok grip non pervenuto prova ad andare un pochettino più piano senza andare a tutta concentrati meglio sulle curve ti viene veramente il vomitino infinite quanto chiude questa pur le salite ma lei luigi molla tutto non ascoltarlo seguiamo il piano seguiamo il piano occhio occhio hai giusto detto mi metto dietro nel gruppo è caduto ralph perché è la prima frenata ralph lo diciamo sempre noi c'è a ma queste curve a quanto chiudono carina cavina un po chiudono le curve hai tempo fino a stasera le passerelle quelle belle professionisti della cinghia famosa la playa o nasce col piano ma che va che link il piano la linka tutta è merda mi si è tirato il freno scusa ma perché non hai guippato oh ma va che scorcio è comunque stato un bel gesto per il tuo compleanno valta a portarci qui a star con gli amici è il tuo compleanno cos'era quella roba lì mi sono cagato adesso per te morbido 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 io sto sempre filmando sempre tanto poi c'è il buon piano che edita ciao piano so che in questo momento mi starai odiando durante l'editing comunque il grip non sanno cos'è qua cos'è che hai detto scusa prima che non ho sentito i più i più bravi di me e sarebbero a io per cosa per le cadute si ma poi devi vedere la sua tecnica di approccio al cancello quando stava per morire tipo tutta in avanti così col dietro che scodava va bene 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 va Ah, un bello schizzetto, come diceva Cicciolina. Ale Pialo! Canciaia della morte. Altro giro, altra risalita, altro panorama. E si va verso il pranzo, dopo cambieremo zona. Tra l'altro, là, se vi ricordate, è dove siamo andati con il buon Erwinio, ma siamo andati in realtà anche l'anno scorso quando mi ha fatto il giro qui del Sella Ronda. Là dietro c'è il ghiacciaio e sotto c'è il lago con la diga. Abbiamo fatto tutto quel traverso fighissimo che poi scendeva Canazè alla fine, perché Canazè è dietro non alla prima montagna, ma alla seconda montagna. Vedi il vantaggio di essere pesanti, Rado. Oh, ma dove ti porto? Va dove ti porto? Che bei sentierini che andiamo a fare. No, ci guadagniamo il pranzo. Mamma, mi scende la lacrimuccia adesso. Quanti ricordi ieri qui al golf. Quante buche fatte per terra. Mi sono molto contento perché Diego non ci ha fatto pedalare. Questa è la cosa più importante di tutte. Ah, bello questo, questo qua, me lo ricordo l'anno scorso. Perché? C'era bagnato ed era una saponetta. Oggi invece è l'opposto, è una saponetta per la polvere. Mamma mia le svrappatine di l'aria. L'aria con calma, con calma. Io sto solo attento al bivio da non sbagliare, perché ragazzi siamo appena fatti una salita mortale, ripida come non so che roba, per poi scoprire che il rifugio sul cucuzzolo della montagna non era quello. Per la felicitazione di tutti. Ilaria Passione Fossi. Siamo arrivati, incredibilmente. Quindi... Ah, questo qua non l'avevamo fatto l'altra volta. Questo è inedito. Sì, sentierino per andare easy. Poco sfondato. Molto, molto facile. Sto facendo tutto quello che non bisogna fare in un centennio così. Star seduto. Saranno i nostri eroi ad arrivare al pranzo o moriranno prima di fame? Va che bosco! E ce la fecero ragazzi. Buon appetito ragazzi. Facciamo la change. La prossima volta che Diego dirà vi porto io, prendo un seghetto, gli taglio la bici a metà prima e poi me ne vado via. Pranzi leggeri, leggeri. Mezzalune con fine cericotta. Mega costina, buonissima. Tipo cotta a 78 mila ore. No schnitzel. Così, giusto per non avere un po' di abbiocco dopo pranzo. Esatto. Ciao ciao. Magnato abbiamo magnato, bevuto abbiamo bevuto. E adesso scuola di manual. It's manual time! Quindi la nostra giornata in MTB finisce qui, ma la nostra giornata sportiva no. Con il golf. E riparto la sfida? Finito il weekend, cacchio. Puoi disfogarti, li vedi? Ah c'è il distributore? 2 euro, 24 palline. 4 euro, 48 palline. Salute ragazzoni! Questo super weekend! E con questo salute, ragazzoni, vi saluto anche io. E sono molto bello a partecipare. Come al solito, lo sapete che quando il nostro buon Walter, ma ovviamente c'è anche Luigi dietro questo weekend, organizzano qualcosa, lo sappiamo che ci divertiamo, stiamo insieme, giriamo in bici, facciamo tante cose, proviamo le macchine che vanno forte, giochiamo a golf, cioè... C'è le macchine belle attività! Facciamo uno spoiler sulle prossime attività che faremo al prossimo camp, Clay. No, perché non lo so! Pensavo avessi già in programma cose. Amicata la dica a te. Ahhhh... Va bene, con questo ragazzoni, spero vi siete divertiti. Due giorni veramente, veramente fighi. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ovviamente qua è stato un contenuto abbastanza easy, di intrattenimento, niente di specifico. Se è la prima volta che guardate qui, come al solito, iscrivetevi al canale, cliccate il bottone qui sotto, non costa nulla. Come al solito, un sacco di gente che guarda i video ma non è iscritta, lasciate un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere, secondo voi, qual è l'occhiale più figo che avete visto durante questi due giorni, perché ne avete visti davvero tantissimi. Il Troy Lee Design Sutro? Come è una Troy Lee? Come è una Troy Lee? E cosa cambia da quello Troy Lee? Come si chiama quello lì? Non mi ricordo. E con questa notizia bomba, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!